Partirà martedì 21 settembre alle 6 del mattino dal santuario del Beato Sante il percorso in bicicletta che il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci intraprenderà per recarsi a Farkirchen in Germania. Un viaggio commemorativo di tre giorni per ricordare Eric Eder, l'ufficiale tedesco che nel 1944 decise di non deportare intere famiglie di ebrei che si nascondevano nel santuario francescano. Alla presentazione dell'impresa avvenuta questa mattina presso il giardino di Palazzo del Monte erano presenti anche tutti gli studenti dell'istituto Pirandello. Il sindaco Petrucci si è poi spostato in bici al Beato Sante dove lo attendeva padre Alvaro che oltre alla benedizione ha consegnato al primo cittadino una reliquie del santuario destinata al comune di Farkirchen. L'iniziativa è nata quando ho ritirato questa pergamena al Museo dei Giusti a Milano, quando ho avuto modo di avere l'onore di conoscere la senatrice Segre e abbiamo ricordato i grossi valori che erano stati apportati dall'ufficiale allora Eder a Monbaroccio che nel 44 salvò tanti monbaroccesi e la famiglia Sarano nonché altri ebrei nelle grotte del Beato Sante. Quando l'ufficiale Eder allora fece il voto al Beato Sante nel 53 decise di tornare a Monbaroccio in segno di scioglimento di quel voto, allora mi sono chiesto come fece il percorso. Nel momento in cui la senatrice mi ha dato questo documento io ho deciso di rifare lo stesso percorso in segno di gratitudine e di rispetto per quello che fece il generale Eder allora, l'ufficiale Eder perdonate. Allora è nel riconoscimento anche dei valori delle scuole che sono qui con me perché comunque sono oggetto predominante del percorso perché la memoria che allora Eder ci lasciò è giusto tramandarla alle scuole, le quali dovranno tramandarla alle generazioni future. Pertanto è nato tutto da questo e abbiamo deciso come Monbaroccio in segno di gratitudine alla famiglia, alla città di Farkirken dove arriverò e a tutto quello che fece Eder allora di riconoscerglielo con questo piccolo gesto. Pertanto partirò per la Germania, farò lo stesso tragitto che alternanza bicicletta-treno per poi arrivare a Farkirken nell'inizio della prossima settimana. Quanti chilometri saranno e lo percorrerà da solo? Il percorso sarà in solitario, assolutamente sì. Sono percorso in bicicletta che dovrebbe essere intorno ai 300-400 chilometri in bicicletta alternati a quelli su rotaia. Come fece a lui a suo tempo lo ripeterò allo stesso modo. I ragazzi sono l'oggetto predominante ai protagonisti, sebbene se io indossare la fascia con me vengono loro e vengono tutti i cittadini in Monbaroccio. Con questa pedalata sarà anche oggetto di rilancio della quarta edizione del Premio Luce nel Buio dove i ragazzi sono parte della giuria e avranno modo di valutare tutti gli elaborati che arriveranno come sono arrivati in questi ultimi due o tre anni da tutte le parti d'Italia. e dico la verità in un periodo di Covid con tutte le difficoltà che ci sono state le scuole si sono sempre dimostrate collaborative e attive anche in una didattica che non è quella ordinaria ma che diventa straordinaria come la pedalata che andremo a fare sostanzialmente.